Ok Ma cavolo è Uno è dietro di noi Sì ho visto Dov'è il maledetto? Qui Bravo 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 Ti stavo parlando alle spalle aiuto mi è sceso un colpo Facciamo tempo a tirare adesso il medikit secondo te? Nuova maledetta super mega complicata Dura esattamente 15 minuti quindi il game durerà 15 minuti tondi Quindi un game molto più facile del solito Molto più breve Dove l'inizio è abbastanza normale E lento Dopo che inizia a velocizzare diventa un casino La zona si chiuderà tutta compatta in un'unica volta Quindi non sapremo punti in cui andare specifici E sarà abbastanza imprevedibile Sarà difficile capire appunto dove dovremo andare Sarà una roba dove costantemente ci dovremo muovere E non sarà per nulla semplice 2 contro 4 è pericoloso Stef che non hai detto è che la zona già da subito fa 10 danni al secondo Quindi è impossibile stare fuori dalla zona totalmente Cioè ti devi muovere, correre e andare da tutte le parti possibili Sì sì non ti puoi permettere di stare fuori Cioè devi stare sempre dentro la zona Allora Siamo pronti? Sì dai Andiamoci nel corso commercio Dovrebbe andare abbastanza bene Non so se è più difficile proteggiare una zona del genere O il fatto che siamo due contro le squad Perché anche poi non è da poco È il 2 contro lo squad Con una zona che rompa così tanto le scatole Perché costantemente ti devi muovere E quindi devi fare dei fight in 2 in meno molto veloci Esatto E che è abbastanza difficile perché sai Certo Devi compensare il fatto di essere Vabbè ce la faremo no? Dai sì sono positiva Allora la zona ha già iniziato a chiudere Perché sono già partiti i 15 minuti E se tu zoomi bene il cerchio Puoi controllare qual è la parte dove chiude molto veloce Sembra in linea generale alla sinistra Quindi verso le spiagge e tutte quelle zone lì Cavolo a me sembrava verso palmetto cioè Non lo so poi riguardiamo Vabbè vediamo un pochettino quando si sta iniziando Però la pensiamo a lutare Porca miseria è difficilissima da capire Che fail Allora Vabbè uno dei due è felato probabilmente io quindi amen Speriamo Altrimenti ho felato io Legna 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 Questa casa è praticamente vuota Però non mi sembra ci siano player Quindi non credo sia un grosso problema Nel senso possiamo lutarci praticamente tutta la città Abbastanza rilassati Vorrei il nuovo fucile a pompa Dato che è una vita nuova Nuova pompa Nuova arma Mi sembra giusto così Zero chest Signori Che inizio straordinario Piccone versus squad Ce la faremo? Dai è un buon equipaggiamento no? Sì Ottimo Ce la puoi fare Sta giochi bene ce la puoi fare Allora Vado a farmi questa casa Che noia Dai c'è neanche una chest su due È proprio brutta roba Qui almeno la sento già Allora qui la sento pure io Granate Non me ne faccio nulla Scillini Già più utili Scilline Ottimo Io sto trovando solo scillini e scilline Cioè mi avanzano addirittura altri quattro scillini dopo averli bevuti io Pensa a te Tattico blu Ok bello È già qualcosa Ti prego chest dammi qualcosa Ti prego chest dammi qualcosa Ti prego chest dammi qualcosa Un tommi verde non è male Dai buono Però ho solo un fucile da cecchino Wow Pompa nuovo che non è più nuovo Pompa meno nuovo del nuovo Pompa meno nuovo del nuovo Bello Ci sta Ma come lo chiama il gioco? Eevee shotgun giusto? Sì Di pompa pesante Sì 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 Ti prego in inglese per te grazie E vabbè però siccome è complicato dire tutto questo nome è lungo Quindi sarà Pompa meno nuovo Pompa meno nuovo dai Che lungo uguale Esatto È più semplice da dire No ma è per niente No è più semplice Pompa meno nuovo Cosa ha di semplice poi me lo spieghi Allora così è rimasto da luttare Perché io sto messa Tutti i centri commerciali Mai proprio neanche Andato neanche per sbaglio Però non ci sia arrivata gente nel frattempo Perché è probabile Un po' di rischio c'è Io sto pensando anche a fermarmi legna Perché essendo in meno bisogna billare tanto Però Non sono molto felice dell'equipo Ho due pompa E sono inutili Quindi ne terrò sotto uno Vediamo un pochettino Comunque infatti ho un tattico blu da darti Ok Non mi sembra costruito slash luttato Posso trovare SMG E AR No? No I can't Ok No l'ho trovato Ah guarda uno bianco ora Wow Proprio per darmi il contentino Verde Però ma che non ho ancora il fucile a pompa Cavolo Mi sa che ho due ceste da aprire raga Che è molto positivo Dai 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 Su 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 Ok Loot 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 Perfetto Allora Rumori zero Ferea C'è player No non mi sembra Non sembra Ok Perché sono sceso a 70 Non mi serve Non ne ho idea Però lo dovrei prendere al posto Devo uscire lì No perché 75 è meglio di 25 Yeah Ceste del tetto E io penso che sono anche pronta ad andare Francamente Bah sì Pure io Cioè giusto perché non c'ho voglia di fare tutto No anche perché sì Non ho voglia di luttare all'infinito È giusto quello il punto Cioè bene o male siamo messi benino Non c'è abbastanza materiali Quindi direi di muoverci Oddio ma non ho colpi Io ho 138 quindi bastano per me 84 Perché Non te ne posso dare Mondo crudele Cosa ho fatto di male 84 colpi sono pochissimi Ho trovato solo pompa Io l'ho detto Che trovo solo colpi del pompa Vabbè faccio quest'altra villa E possiamo andare Fai magari un po' di legna Vabbè sei già a 400 che non è male Sì sono già a 400 Non è male E sono abbastanza messa bene I colpi non sono tantissimi Ma penso mi bastino Poi o meno per il primo fight E boh dire che va bene Che ci possiamo iniziare a muovere Ok io vorrei un smg Anche perché sembra che proprio Non trovo colpi di fucile d'assalto Quindi magari se trovo quelli dell'smg Magari sono messo un pochettino meglio con quelli Non ne ho francamente idea Ti posso dare al volo il fucile a pompa blu Così non me lo tengo più in alimentario Arrivo a prenderlo Arrivo a prenderlo Opla Te l'ho buttato per terra Pieno terra Ok Eccolo qua I colpi di fucile d'assalto Sono già 120 Va già meglio Opla Dai un smg Un smg E sono quasi soddisfatto Un smg E sono quasi soddisfatto Com'è la zona? Controlla la? Boh Non lo so Non noto parti più veloci Tico la verità Come? Anche se verso la nostra comunque mi sembra più lenta Aveva ragione quindi Quindi sì Forse sì Ce l'ho Ce l'ho Ok andiamo Ci muoviamo Ehm Sì Faccio Io no Sono un po' indeciso Ok Cosa ti manca? La vita Dai Che vuoi ancora? Beh valeva un po' di colpi Dai vado bene Vanno bene 150 vanno bene Prendo anche questi Oppure io lo stesso tanto Quindi va bene Ma a me di continuare tu Mi interessa un po' Mi interessa continuo io Ok Eh che sennò siamo solo fermi a luttare Su Ok allora ho visto la zona Fatemi controllare un pochettino No comunque un po' su di ninja Stava chiudendo Sembra Ma è certo che chiude Sembra una roba del genere Dovremmo andare verso lì Vero? E anche a me sembra lì Così ad occhio Sembra lì Sì Ma poi al centro sicuramente Incontreremo un botto di gente No 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 È un inganno Verso il basso sta chiudendo più lento Di verso su Quindi potrebbe essere più verso qua Un inganno Guarda che difficile Vede Uè Ah l'ho visto Bellino Ecco i miei colpi Ti dicevo sì è difficile prevedere Molto difficile Cioè siamo abituati che guardiamo E sai dove chiude E vai Invece così è difficile prevedere Molte volte inganna Allora resta a distanza Così ci prendiamo le cose che servono Perché la legna La lascio a te Ok Ah voglio il trampolino Voglio i colpi delle mie sedici Gli altri colpi a me non servono Sinceramente Vai prendo tutto E mi prendo tipo i mattoni Lo slurp lo posso prendere Perché ne ho già uno Poi se riesci Prendi l'uscillone Ho sette scillini Tieni gli scillini Infatti conviene tenere gli scillini Sì assolutamente Quando so così tanti è quello Ci ho pensato anche Ho detto no è meglio 32 vivi Load out che inizia a essere buono Molti colpi Trampolino che per questa roba Nella zona che si muove sempre È utilissimo Full shield Full vita Concentriamoci perché è un buon game Ok Uh senti Sì Di fronte a noi Ok Quindi assalti springs sono Colpi di cecchino Colpi di tomigan Colpi di pompa Quindi stanno fightando proprio anche da vicino Ho visto cose finite di villarelli Eccoli ho visto costruire Quindi di fronte Zero vision Mi metto nel cespuglio Opla Tu li vedi? No Allora io vi sto costruire qua Di fronte a me Proprio a 255 In questa casa Ho visto costruire una rampa Ma non li vedo Non li vedo Qualcuno deve essere sopravvissuto Porca miseria Ah stanno anche sparando ancora Eccole 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 In mezzo alle due case In mezzo alle due case Ah Giustamente Sta cercando di sniperare Credo eh Sì 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 Che vuole sniperare C'era con noi quindi Problema che Quanti sono Due sicuri Visti Sta arrivando un altro team Da 2,40 Minimo 3 2,40 Sì Colpito 29 di shield Sembra solitaria Vero Sì Cavolo che noia Che vedi mirare Invece ti stai colpito La tua piattaforma 28 di shield Arrivano gli altri Eccoli 23 di shield 28 di shield E l'abbiamo fatto cadere L'ho fatto cadere Ha preso danni Sì perché Occhio che ti sta mirando A quel furfante Esatto Mi ha preso Ti giuro I capelli Mi ha fatto Shield e vita Quindi ha soltanto vita Quello lì Eh il problema sono questi Aspetta mi copro da quella parte Spostiamoci Andiamo verso qua Che è solo Sì E non è male Se riusciamo a prenderci la kill Sì perché secondo me Lui è lootato benissimo Secondo me E beh Ha fightato Dell'unico rimasto in vita Probabilmente ha preso Il lutto di tutti Esatto L'ho colpito Veloce Che altro è che stava Stava colpendo Non lo so Nuovo fucile a pompa Questo lo voglio Se tu non lo vuoi Faccio così Faccio così E mi upgradeo anche questo Avevo tutto da upgradeare Cioè è assurdo Ok Ok ottimo Però dove c'è uno sparato Non lo so Mi è sembrato Stefa la sinistra La sinistra Qui giù Zero vision Mi spiace Qui sotto Proprio in mezzo agli alberi Li vedi tutti e due Sì Senza scilluno Anche un altro Bravissima Ma dai Prendimelo Mi copro anche dietro Che non si sta mai Perché secondo me C'era qualcuno dietro Una terra Colpito Solo vita Aspetta Ok Cavolo Uno è dietro di noi Sì ho visto Dov'è il maledetto Qui Bravo 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 Ti stavo parlando alle spalle Aiuto Mi sceso in collo Facciate un battito adesso Medikit secondo te No stef No no Dai il malattito stesso Tu inizia ad andare No no Vado 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 Sì c'era facile invece Cavolo lo slurp mi sarebbe stato utile No ce li ho infatti per quello Mi sto riprendendo Uga Ho fatto in tempo Ok 4 kill 15 vivi Loadout buono Ok Non abbiamo esplosivi Vero? No È l'unica cosa che secondo me ci manca Per essere Due contro quattro Ho visto prima mi sta delle fiolette puzzolenti Ma avevo i perfetti del C4 Sì le ho buttate giù Io Le ho buttate giù Io per tenermi gli slurp Mi sembravano più utili Ma qui vado anche costruito Quindi occhio Ok C'è qualcuno sopra Non lo so Bel fight eh Bel fight Questo game lo stiamo gestendo bene Di fronte a noi Di fronte a noi Eh ma anche questa frattura temporale Da dove? Qua li vedi? Costruendo per la montagna Proprio di fronte 300 gradi Ho fanechilato un tipo Era già a terra Ah ok Sì perché li ho visti proprio sparare Quindi facciamo attenzione Probabilmente che dal cratere Ci arriva qualcuno Ok Comunque c'è abbastanza azzeccato Con la zona Più o meno No l'ho rimessa Avevo sbagliato È impossibile No all'inizio la prima volta Avevamo detto tipo qua eh Eh però poi mi ero corretto E avevo sbagliato completamente Però l'ho detto è difficilissimo È super tosto Sai che non vedo nessuno Mi preoccupa un sacco Sono sulla montagna Secondo me Eh però Cioè li ho fanechilato l'amico Eh ma Molti secondo me qua Entrano col completamento Non gli frega niente Se gli butti giù qualcuno Ci sta Perché giocano per i fatti loro Ha senso Allora entriamo per un po' qui Perché così siamo coperti sulle montagne Perché chiaramente c'è un bel po' di gente sulle montagne Certo qua Potremmo trovarci qualcuno a fianco E neanche ce ne accorgiamo Quindi non è il top Però Qualcosa bisogna rischiarla Che ansia Questa è la parte difficile del game Perché ora raga La zona è invadente Proprio tanto 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 E Cioè non ti puoi fermare un secondo Praticamente A fightare Di fronte a noi Shield Ok Però solo un hit Sono andato malissimo Ci viene addosso Ok A terra Gli amici Da dove sparano? Non lo so P90 Sei tu che hai sparato Ok Ah li vedo Di fronte a noi Steph 345 Stanno rompendo degli alberi Sono fermi Le a rompere degli alberi Ok Li vedi Ok Colpito uno Che secondo me Stava per cecchinare Infatti 26 di shield All'altro gli ho tolto 20 di shield 22 Questi stanno fermi A cecchina Colpito 30 di vita Cioè 60 di shield E 30 di vita Quindi è basso Ok L'altro è sempre pronto A cecchina Peccato Mamma mia Le cecchinate Che gli sto schivando Perché capisco il tempismo E mi nascondo Occhio eh Alla nostra sinistra Altri player Ok Il maledetto è pronto Ma ci arrivano addosso Non lo so Ok si sono coperti Li hai visti? Mhm Ah Io potrei distruggere tutto Ma appena esco fuori Mi cecchinano Cioè sono proprio prontissimi Aspettando la cecchinata Maledetti oh 35 di shield Ce l'ho pure io Il cecchino Ma ci mettiamo A fare la gara Di cecchinata Basta 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 Bravissima Terra 1 Ok Basta Cioè hanno rotto Le scatole Non possiamo Stare fermi Qua camperati Chi mi ha cecchinato? Lui Lui Sempre fermo Eh vabbè Steph 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 C'è un altro sotto di me Quindi occhio che ti arriva da dietro Che devo fare? È un altro dal fiume Ti arriva Cioè pieno di gente A me sta prendendo la zona Quindi non ce la faccio Fa malissimo ovviamente Hai un trampolino o qualcosa? Sì Come andartene e riposizionarti O troppi 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 Buona idea Esatto Perché ti arrivava dal fiume Da dietro Dove ero io Ok Troppa gente Vedi guarda quanti sono ancora Tantissimi Bravo Non ti colpisci Che noia Ok Steph Non puoi stare fermo molto Lo so Ok Quelli continuano a spararsi Quindi buono Mi sembra che tutto il game Sia lì spero Sì Cioè che almeno non ti arrivi Qualcun altro D'altre zone Secondo me sono Uno contro due Ok Bravo Ok No Uno contro uno Cos'è il cecchinatore seriale questo? Mi stavo proprio di sì Sì ecco! L'hai visto? Che ha tirato fuori il cecchino Il maledetto Cioè questi anche se vengono sparati Pensano solo a tirare fuori il cecchino Grande Steph Grande! La volevo vincere Due contro quattro Modalità nuova Ci tenevo Ce l'abbiamo fatta Complicato raga È una rottura Non capisci dove vuole chiudere E ti rompe Cioè sono andato lì E rompeva le scatole Che c'avevo costantemente a calcagna Mi sono spostato dall'altro lato E di nuovo sono stato obbligato a muovermi Che noia Però è bello Che noia ne sono fastidioso Ma è divertentissima Comunque felicissimo Ce l'abbiamo fatta Molto molto soddisfatto Non so neanche quante kill Sono riuscita a fare Non me le fa più vedere Sei o sette Sono sette mi sa Sono sette mi pare Comunque Bello 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 Game of game Mi sono intrepatto Però l'ho perminta di non Quindi ho cercato di recuperare Qua sotto Fai un altro video Iscrivetevi al campanile Ciao Ciao